Musica Oggi la vara è andata bene, fino a un certo punto mi è andata bene perché io non ero al massimo, sono riuscito a fare un gran risultato perché a gente alla fine un gran risultato, anche se non mi trovo bene con quello che è successo oggi ma ho fatto tre incontri che proprio ho dovuto lasciare il cuore in ogni incontro sulla materazzina Io ringrazio la mia società Mandraccio Genova che senza loro sopporto, non lo so se l'avrei fatta perché loro sono fondamentali in questa carriera che ho iniziato con Italia Lucio Caneva che è uno dei uomini che ha fatto questa medaglia, questi risultati, questi lavori che stiamo facendo per arrivare a Rio, l'ha fatto lui, proprio l'ha pensato tutto lui cioè grazie a lui tutto questo sta succedendo, si sta facendo in realtà Grazie, il mio obiettivo, la mia ambizione è fare primo ora a Las Vegas, qualificarmi come primo non mi piace anticipare le cose però, ve lo diciamo così, voglio arrivare a Rio e fare il mio meglio Grazie a tutti